Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Mastercard. Io sono il Mastercard e il vostro ospite su questo canale. Prima di cominciare, una comunicazione di servizio perché parecchi di voi me lo stanno chiedendo tramite messaggio privato, tramite Facebook. Allora, non sono io a mandare le notifiche quando esce un nuovo video. È una funzione che fa in automatico YouTube. Il fatto è che, io l'ho sempre andato per scontato, però, ripetite a Juvent, se volete che vi vengano inviate le notifiche in automatico appena il video viene caricato, dovete iscrivervi al canale, cioè schiacciate sul tastino dell'iscrizione. Una volta che siete iscritti, sotto i video vi verrà fuori un altro tasto, quello delle notifiche, quello a forma di campanella. Cliccare su quel tastino a forma di campanella. A quel punto dovreste avere la certezza che ogni video che esce vi verrà notificato con un messaggio sul cellulare o anche su internet se usate un fisso. Vale per il mio canale come vale per qualunque altro canale di cui vogliate le notifiche. Se siete iscritti al canale e basta, non è scontato che le notifiche vi arrivino. Potrebbero arrivarvi, potrebbero non arrivarvi. So che c'è gente che mi dice che le notifiche gli arrivano giorni dopo che il video è stato caricato. Mi dispiace gente, io non posso farci nulla. L'unica cosa che posso dirvi è iscrivetevi, attivate le notifiche e sperate che vi arrivino. Io comunque, per sicurezza, ogni volta che viene caricato un video, lo linko anche su Facebook. trovate il mio account pubblico nella sezione dei contatti, lo trovate anche sotto nella descrizione. Se non siete pratici YouTube, non vi fidate, non vi arrivano le notifiche, qualunque cosa o anche solo volete avere un contatto più diretto, chiedetemi l'amicizia lì sopra. Grosso modo ogni domenica dalle due e mezza alle tre e mezza, io lì condivido il nuovo video della settimana. A volte capita che condivida anche altra roba. Comunque, se volete essere certi di avere la notifica, chiedetemi l'amicizia su Facebook. Lì la metto io, quindi sono sicuro che arriva. Schiarito questo punto, andiamo avanti e dedichiamoci all'argomento di oggi. Questa settimana continuiamo a parlare del tesoro, diciamo che questo diventerà il mese del tesoro, e andiamo a parlare di un argomento specifico interno al D20 System, quello che normalmente viene chiamato il ciclo del tesoro, anche se il ciclo vero e proprio lo vedremo più avanti, però cominciamo a vedere questa settimana cosa differenzia il tesoro nel D20 System rispetto ad altri sistemi. La settimana scorsa abbiamo parlato di cosa sia il tesoro e di come questo va da influenzare i giocatori, ma se in molti sistemi il tesoro, l'equipaggiamento è qualcosa che va in aggiunta al personaggio, nel D20 System assume un'importanza preponderante. In tutti i giochi che usano il D20 System infatti esiste una correlazione diretta tra il livello del personaggio e l'ammontare del suo tesoro. È qualcosa di intrinseco al sistema, fa proprio parte della meccanica base del D20 System. Per fare un esempio concreto prendiamo Dungeons & Dragons 3.5, che probabilmente è il sistema più diffuso in assoluto per il D20. Un guerriero di quinto livello deve avere un valore di tesoro intorno ai 9000 monete d'oro. Possiamo ipotizzare una spada più 1, 2315 monete d'oro, un'armatura più 2, 5050 monete d'oro, più un altro migliaio di monete d'oro in ponzioni e quello che resta in liquidità. Dimensi mostri al grado di sfida 5 in avanti, infatti, sono incorporei o resistenti alle armi che non siano magiche. Quindi quella spada magica è fondamentale per il personaggio. Allo stesso modo, dal grado di sfida 5 in avanti, molti mostri hanno un boost al loro attacco, proprio un attacco base più alto. Quindi avere un'armatura magica di per sé non è un vero e bonus, ma è qualcosa di necessario per mantenere il bilanciamento dell'armatura rispetto ai livelli precedenti. Più aumenta il livello dei mostri, più è difficile abbatterli senza equipaggiamenti magici. Dal grado di sfida 15 in avanti, praticamente tutti i mostri sono invulnerabili alle armi magiche e quando si arriva intorno al 20 servono armi magiche particolarmente specifiche per essere sicuri di far darmi al mostri, un gruppo di personaggi di alto livello, un gruppo di personaggi di ventesimo, che per qualche motivo perdessero i loro equipaggiamenti, farebbero effettivamente fatica ad affrontare dei gradi di sfida anche relativamente bassi per il loro livello, tranne i maghi. I maghi a quel livello sono virtualmente invincibili. Dei dettagli di come distribuire il tesoro nel D20 System, parleremo poi piuttosto più avanti, sempre nella rubrica del D20 System. L'importante è adesso chiarire quanto il tesoro sia importante nel sistema e che non si tratti di un'aggiunta alla abilità dei giocatori, ma una parte integrante di quello che i personaggi possono fare e si prevede facciano all'interno del gioco. Per questi motivi, un master che stia preparando una quest del D20 System, che è un Dungeons & Dragons 3.5, un Pathfinder, deve porre molta più attenzione a quello che farebbe con il tesoro rispetto a quello che farebbe con un altro sistema di gioco. Molto spesso però i master rimangono bloccati nel preconcetto che il tesoro sia esclusivamente qualcosa che i giocatori ottengono come ricompensa per le loro imprese. Il classico schema in cui i personaggi uccidono un mostro e gli trovano in tasca delle monete d'oro o un'arma magica. E quando arrivano alla fine del dungeon c'è un baule pieno di preziosi ad attenderli. Questo però, seppur formalmente corretto, si adatta molto di più allo schema rigido del livello di un videogioco che ha la situazione caotica e dinamica che è una sessione di gioco di ruolo vera e propria. Se nel D20 il tesoro è una parte così rilevante delle abilità dei personaggi, è giusto renderlo anche una parte altrettanto rilevante nella storia stessa. Invece di considerare il tesoro come una parte di un ciclo ineluttabile, sarebbe meglio che il master lo prendesse come elemento a sé stante. Il ragionamento che molti tendono a fare è che una quest'idnd dovrebbe basarsi su un ciclo molto rigido. I personaggi vanno in missione, i personaggi superano un incontro, i personaggi prendono il tesoro. E queste due ultime cose si ripetono fino a quando l'avventura non finisce e i personaggi prendono la loro esperienza. In realtà, anche se a ogni mostro corrisponde un determinato tesoro, quello che il master dovrebbe realmente prendere in considerazione è solo l'ammontare totale del tesoro a disposizione dei giocatori in base al loro livello. Non esiste un reale motivo per cui i personaggi debbano guadagnare il loro tesoro mostro per mostro e nemmeno che quel tesoro sia fornito dei nostri stessi. Quando il nostro guerriero di esempio passerà al sesto livello, il suo tesoro dovrà essere aumentato dalle 9000 alle 13000 monete d'oro, un guadagno di 4000 monete. Il personaggio potrebbe affrontare quattro imprese da cui guadagna 1000 monete d'oro, affrontare una quest per cui gli vengono anticipate 2000 monete d'oro e altre 2000 le guadagni al completamento. O più semplicemente rubare 4000 monete d'oro e poi sconfiggere tutti i mostri che gli vengono mandati contro a riprenderseli fino a superare abbastanza incontri e a salire di livello. Nella pratica è del tutto indifferente se i vostri personaggi guadagnano il tesoro tutto assieme o volta per volta. L'idea di considerare il tesoro qualcosa da fornire ai giocatori come ricompensa alla fine della loro impresa è un concetto che risale agli albori del gioco di ruolo. Quando, ad esempio nel D&D originale, i giocatori non ricevevano esperienza in base ai mostri sconfitti, ma in base al tesoro raccolto e l'esperienza veniva inguadagnata immediatamente. Per mantenere un migliore bilanciamento di gioco il master tendeva ad accumulare tutto il tesoro verso il fondo dell'avventura in modo che i personaggi fossero un po' costretti a combattere la maggior parte dei mostri possibili e un po' mantenessero il livello dei poteri più o meno stabile durante il corso di tutta l'avventura. Nel D20 attuale però questa relazione non esiste più. I personaggi non guadagnano esperienze in base al tesoro e comunque hanno bisogno di tempo per salire di livello. Nel D&D attuale non esiste che uno stregone passi di livello e quindi acquisisca nuovi incantesimi subito dopo aver ucciso un orco in un corridoio poco prima di entrare in una stanza. Il tesoro invece potrebbe essere utilizzato per dare minimi aumenti di livello di potere del personaggio durante il corso di una quest, permettergli di variare le meccaniche, soprattutto ai livelli alti quando potrebbero volerci molte sessioni per un personaggio per passare al livello successivo, avere periodici aumenti di potere per via di oggetti magici e alto tesoro trovato potrebbe evitare che i giocatori si annoino troppo nell'attesa di livellare. Per questo video è tutto, avremo più tempo in seguito di parlare minuziosamente delle meccaniche nel tesoro del D20, ma volevo cominciare a fare delle anticipazioni appunto perché questo è il mese del tesoro e quindi almeno avete delle basi su cui cominciare a lavorare. Per questo video invece è tutto, naturalmente mi piacerebbe sapere da voi come gestite il tesoro, come lo gestisce il vostro master o come preferite o preferireste venisse gestito il tesoro. Se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se volete le notifiche cliccate sulla campanella. Per il resto io sono il master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.